bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi continuano continuano gli aggiornamenti da parte di epic games su quello che sarà la stagione numero 4 abbiamo oramai capito tutti che ci saranno gli eroi sono praticamente già stati annunciati con le ultime due fotografie che ci hanno pubblicato sul loro account twitter che vi ho mostrato negli ultimi giorni e davvero stanno girando per il web un sacco di ipotesi su un vero e proprio accordo tra DC comics marvel e epic games c'è chi dice l'avevo detto anche io e avevo sentito dei rumors a riguardo che i cinque supereroi della justice league potrebbero essere quelli riadattati per la stagione numero 4 di fortnite ma di che cosa vi voglio parlare oggi ragazzi se io vi posso regalare delle cose o dirvi delle cose che vi danno dei premi porca miseria lo faccio abbiamo già visto ragazzi cinque contest che abbiamo fatto nel canale ce n'è già un altro in corso quello che vi chiede di arrivare a 19.300 iscritti entro questa sera per avere la possibilità di partecipare ad un nuovo contest che vi regalerà 10 euro ma ragazzi attenzione fortnite epic games hanno aperto un giveaway per il pass battaglia numero 4 parteciparci ragazzi è semplicissimo e adesso andiamo a vedere assieme come si fa perché togliere e perdere un'occasione del genere apriamo ovviamente la nostra pagina google quindi easy easy da qui ragazzi andiamo su clic scriviamo twitter fortnite così andiamo nella pagina ufficiale di fortnite su twitter la riconoscete perché ha ancora l'immagine di copertina con il vecchio lama che hanno pubblicato il 25 aprile da qua ragazzi fatemela trovare che non la trovo aspetta un momento c'è il giveaway questo l'hanno fissato questa è l'emote nuova aspetta che non la trovo eh aspetta che non la trovo porca miseria aspetta che non la trovo aspetta cerchiamola da qua twitter fortnite giveaway ah era fortnite gift era su qua ragazzi no non era su qua cacchio era diamo un attimo sulla mia pagina aspetta un attimo perché io ho condiviso perché non la trovo ragazzi fortnite ah è questo ragazzi aha è in battle royale dobbiamo fare così dobbiamo fare guarda 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 fortnite battle royale twitter twitter ecco fortnite br porca di quella porca miseriaccia porca aspetta un attimo che io devo far vedere le cose e non riesco a farle vedere ora fortnite battle royale e fortnite vi facciamo una cosa andiamo su twitter questo è twitter www twitter.com andiamo da qua twitter questo è twitter ragazzi da qua cerchiamo chiocciola fortnite btr eccolo qua fortnite btr ok dalla paglia di fortnite btr che non è quella che vi dicevo prima ma è questa ragazzi 76.500 follower hanno pubblicato qualche ora fa questo post fortnite season 4 bottle pass giveaway quindi vi regaliamo un battle pass che cosa bisogna fare? semplicissimo bisogna fare un retweet ragazzi quindi cliccare su qua dove vi sto facendo dare uno catturo cursore oggi è scritto 490 perché si iscrive alla gente quindi facciamo un retweet da qua ragazzi potete scrivere un commento io l'ho fatto ho già retweetato il coso bisogna seguire la pagina ed è molto facile cliccando su qua si fa segui come vedete è diventato following e poi ragazzi bisogna taggare due amici quindi da qua ragazzi noi facciamo chiocciola come per facebook mettiamo che abbiamo un amico che si chiama michele e qua ci sono tutti i michele che potrebbero essere nella mia lista di amici ragazzi non serve fare nient'altro durerà due giorni loro poi andranno a fare l'estrazione e se siete fortunati vi manderanno un tweet probabilmente o direttamente un messaggio privato con dirvi che avete vinto questo ragazzi è una chance in più per chi per caso non potesse non potesse comprarsi il pass battaglia di avere una possibilità per ottenerne uno gratis io vi ringrazio ragazzi per aver guardato questo video vi ricordo sempre di rimanere aggiornati su tutte le news di fortnite attivando la campanella ma soprattutto iscrivendovi al canale anche perché qua da me si fanno un bel po' di contest con i soldoni veri noi ci vediamo presto ciao 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 ciao